Si è celebrata lo scorso pomeriggio a Palazzo San Francesco, sede dell'ente comunale della città di Sarno, la riunione di consiglio comunale per mettere in campo i diversi punti che figuravano all'ordine del giorno. Sebbene il consesso cittadino abbia preso il via con una cherel tra la maggioranza e l'opposizione, per la quale alcuni componenti della stessa hanno lasciato l'aula, il consiglio si è poi svolto in maniera rapida e scorrevole. Tra le tematiche affrontate, l'insediamento della nuova consigliera Maura Falciani in maggioranza a sostegno del primo cittadino Giuseppe Canfora, la quale ha sopperito all'avacazio lasciata dall'ingresso dell'ex consigliere Antonio D'Angelo in giunta. Per la consigliera Falciani dunque un nuovo impegno, a favore dei giovani e del loro futuro, grazie alle nuove progettualità da mettere in campo. Spero di fare un lavoro proficuo e utile per la nostra Matasarno, cercando di rivolgere un'attenzione particolare ai giovani e quindi un po' alla socialità. Creare nuove opportunità per loro e creare insomma nuovi punti di sbocco per quello che può essere il lavoro futuro di questi ragazzi e soprattutto il recupero per quanto riguarda le carenze scolastiche che si sono purtroppo create in questo periodo di pandemia. Dopo il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio poi, l'Assise ha votato all'unanimità quello che era il riassestamento generale dell'equilibrio del bilancio, il quale ha permesso di approvare quanto contenuto nella previsione 2022-2024, ma anche di prevedere delle somme di danaro in entrata per la riqualificazione dell'area PIP e di alcune zone cittadine. Abbiamo apportato questa modifica che riguardava la variazione di bilancio attraverso la ratifica di un atto di delibera di giunta per poter integrare l'importo da dover corrispondere per il riavvio dell'attività della zona PIP, poi abbiamo integrato con delle somme in entrata per quanto riguarda alcuni progetti che riguardano il finanziamento di Via Duomo, della rotonda di Via Duomo, di Via Ticino, la riqualificazione del prolungamento Matteotti, tutti i lavori che a breve inizieranno e che vedremo sicuramente anche finiti. Rindire invece per la nomina dei componenti della Commissione Ambiente e Salute, per far sì che anche l'opposizione potesse proporre, come da normative vigenti in materia, le proprie nomine.